bello a tutti ragazzi sono del97 e oggi siamo su un cazzetto un cazzeggio time come al sol, un vlag, un mega vlag e no, un MEGA allora siamo sul vlag così a capo del cacchio sulla mia pagina di youtube vabbè allora comunque vi dico cosa sta succedendo, allora intanto per ricominciare vi vorrei dire che farei intanto mi scuso per il video di ieri perché ho visto, non so se anche che lo metto perché si vede solo un quadratino così, un quadratino a doppio della staffetta perché non so, questa applicazione qua è tutto un casino, è tutto un casotto quindi niente, non so manco se lo metto un video perché questa applicazione qua è un casino a fare qua i cuoppi allora innanzitutto io farò una serie, non so se poi se una serie, dipende tutto da voi la serie si chiama di... si chiama Fable 2 perché il Fable 1 non ve lo porto perché è completamente diverso dal 2 ho visto dei gameplay quindi... che capelli ho io? ho visto dei gameplay, è completamente diverso il 2 dall'1 però il 2 è una cosa amizzica, è un gioco bellissimo a me piace, ah questo qua è il canale di Manu e si, non so manco come sto registrando perché... come ho detto è un casino questa applicazione qua e come ho detto farò un... non so se è una serie poi questa qua di Fable 2 perché me lo devo ancora scaricare devo prendere il cursore, cioè il coso, il cuoppo perché... con i tasti io ho... ho giocato un Fable 1 con... con l'Xbox 3... l'Xbox... no no... quella lì normale... la prima... e però posso usare il coso, il disco, il cursore è lì comunque... il... il Churic Pratt... vabbè ma quello lì che si usa a doppia vela staffetta con i dischi... perché io ce l'ho ma non posso attaccarlo al computer... devo andare a Made Award e pigliarne uno per giocare... vabbè... ma anche io sto di cuoco... Sì, la... la maionese... Allora dunque ragazzi, ma... chi è? Ah... Giorichezze... chi è sto Giorichezze? Quindi il gioco di ieri è andato tutto a puttene e sono nella sicurezza... Giorichezze... è lui eh... non si vede un quezzo... sono pure sporcato di disco... Allora... eh... non... non... non pensate male... il disco sarebbe come quello lì a stile... doppietta... perché essendo che... vabbè... eh... chi... Allora sul mio tavolino... eh... dall'altra parte c'è un po' di tutto i... dall'Istanduffoli all'Istelby... perché qua se... se ti muovi all'incontrare è dall'altra parte quindi... devo fare un po' col... ah no perché col bicistrale cambia giusto... E se faccio così... che era di... ah... così... ecco... Invece così era col... vabbè... Perché no... io ho il ragionamento che col bicistrale cambia... poi diventa dispari... col... Come funziona quel problema? E niente ragazzi... questo era un video... ma è ovvio che era un video... ma che... ma che coglione... Allora... questo qua era un vlog... no... un mega flag... allora... come cacchio è... Un vlog... che spiego così... ho detto che faccio il coso... quel video di ieri... non so se manco lo metto... perché... non è venuto da schifo... no... vabbè... chi... ma chi se ne sbette... eh... Allora... come... chi è? E vi ricordo di lasciare un bel pollice in su? Un lex... lo... ah... lo stick me... lo... lo sticks... Un bel pollice in su e un... eh... eh... condividete il di... no no... questo no... vabbè... ecco... sa... oh... raga... Sapete perché si è bloccato... è venuto così un video di ieri? E' tutta colpa di Favij... Ma... è sempre colpa di Favij... c'è la fame del mondo? E' colpa di Favij... Questa applicazione... ecco... questa applicazione fa schifo? E' colpa di Favij... ma... ovvio... E' morto brusoli? E' colpa di Favij... Tra l'altro io che cazzo parlo a fare che sono iscritto a Favij... Ma cosa se c'è... se c'è ciccio che... Ragazzi allora concludo sto video del vlog... Ma che cosa ho appena detto? Allora eh si... allora concludo sto video qua anche se non so se... E' venuto qua dretto che tanto... vabbè... che... 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 che sto dicendo? Qua siamo sul mio canale che tanto non so com'è... che... 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 ah è lui... Parliamo di Favij e spunta lui... corunto... Il detto era più o meno diverso... ma com'è... com'è che funziona qual problema? Allora... allora... allora no ragazzi... allora... un video di ieri... Gli ho fatti due di... allora... eh... mettetemi... ecco... Allora... eh... la cravatta intanto va a cuttene... allora... Ho fatto due video ieri... Uno se non si vede proprio perchè dice... Un file non si vede e quindi si è impiperchiato tutto nella... ci ne è presa storta... Un secondo video è andato tutto a cuttene quindi... Ma ha fatto lo stesso e questo qua speriamo che... Poi l'ho... ah no... l'ho fatto un altro che era quello di ieri... Che vabbè... ve lo metto che tanto chi se ne frega... allora chi... Me ne sbatto altamente a Wallara... E vi ricordi di lasciare like... di condividere sto cacchio di video che ci sono io... E la maionese... un catch... un catch o la maionese? No... un catch... L'amore se si... Andato il disco... and... no... aspetta un attimo... Ah... col bicestrale... Ecco... Porche va così veloce... ah... insomma sono io che... Ragazzi è questo il mio canale si era leggermente capito che... E ciao ragazzi ci vediamo al prossimo flozzo se riesco a fare il video... ciao... Manu non mettere in velocità veloce sto video... ciao... vabbè...